Musica Venerdì 28 febbraio 2020 vi parlo dal Museo Dante Pinocchio di Via Ricasole a Firenze dove è in corso il vernissage della mostra dell'artista toscano Marcello Scarcelli dal titolo Pinocchio Burattino senza fili una mostra della quale avevamo già dato conto ai nostri telespedatori in occasione della sua prima uscita nel laboratorio delle figure del parco di Pinocchio a Collodi e il presidente della fondazione per Francesco Bernacchi che vedete inquadrato al mio fianco ovviamente ha voluto trasferire poi questa mostra qua a Firenze perché come ci ha dichiarato in occasione di altri servizi recentemente dedicati a questo nuovo museo fiorentino l'intendimento è quella di farlo diventare anche un centro di aggregazione culturale non per niente noi eravamo qui qualche settimana fa con l'attore Alessandro Calonaci proprio per una performance attoriale dedicata alla Divina Commedia e a Pinocchio quindi questo cammino nel mondo dell'arte prosegue. Sì grazie dell'introduzione perché è esattamente quello che ho detto e quello che di fatto confermo anzi oggi stavo riflettendo fino a ieri mattina qui erano esposti dei quadri di un notissimo pittore fiorentino Silvano Campeggi che non è più fra noi ma che a lui mi ha legato una grande amicizia ed è la prima vera mostra ufficiale che in Dantocchio viene proposta. Marcello Scarcelli perché? Beh abbiamo iniziato con lui un percorso devo dire che i suoi quadri a Collodi hanno avuto molto successo in genere le cose che faccio prima di tutto devono piacere anche a me questa mi è anche molto piaciuta e quindi è stata anche l'idea che fosse la prima vera autentica mostra che apriremo al pubblico qui nei locali di via Ricasoli 44. Con questa mostra inizia un percorso di arte contemporanea importante che ha come tema ovviamente delle mostre Pinocchio, il mondo di Pinocchio però è anche una vetrina internazionale perché qua vengono soprattutto purtroppo perché dovrebbero venire anche i nostri conterranei a vedere questo museo. Sì anche questo è vero, iniziamo un percorso che mi auguro sarà anche molto lungo perché già sono diversi gli artisti che si sono proposti per esporre qui ed è un'esposizione che si offre a un pubblico fiorentino sperando che sia interessato ma soprattutto internazionale perché da quando abbiamo aperto ai primi di giugno ad oggi la maggioranza dei visitatori che conoscono Pinocchio e vengono da tutto il mondo vengono a vedere Pinocchio. C'è anche Dante Alighieri, ci sarà ancora fino al 2021 l'anno in cui si faranno le celebrazioni appunto di Dante ma Pinocchio rimarrà sempre e anzi avrà ancora degli spazi maggiormente importanti e maggiormente dedicati. Vogliamo ricordare i giorni e gli orari di apertura al pubblico del museo e quindi anche della mostra personale di Marcello Scarzella. Apriamo alle 10 del mattino e resta aperto sempre ininterrottamente fino alle 18 d'inverno, alle 19 d'estate salvo manifestazioni che comunque saranno numerose che inizieranno poi dalle 19 in estate e si protreranno fino a sera tardi. Per maggiori informazioni consigliamo di visitare il sito? Dopo il sito www.dantocchio.it Curatore della mostra e non poteva essere altrimenti Filippo Lotti perché i nostri telespedatori lo ricorderanno da sempre a fianco di Marcello Scarzelli nella curatela di tante mostre e di tanti eventi, uno dei quali ci viene ricordato da questa riproduzione in sedicesimo della scultura il cerchio di Pinocchio che è collocata in maniera permanente e noi eravamo presenti ovviamente il giorno dell'inaugurazione in una trafficatissima rotatoria di San Miniato Basso che fino agli anni 20 si chiamava il Pinocchio, un punto di riferimento artistico ma anche un punto di riferimento molto amato dai bambini, questo Pinocchio stilizzato in perfetta coerenza con l'espressione artistica del maestro Scarzelli. Ma ovviamente Filippo ci parlerà di questa mostra, come si arriva a questa mostra e questa mostra è propedeutica a un percorso che da qui poi proseguirà. Intanto orgogliosamente perché lo ha curato lui, mostra ai nostri telespedatori il catalogo che accompagna questa mostra e accompagnerà anche il percorso di questa mostra nei mesi successivi. Sì, in realtà io sono il co-curatore insieme a Riccardo Ferrucci di questo ciclo di mostre che è iniziato un anno fa circa in casa di Pinocchio, a Collodi, dove abbiamo fatto con Marcello l'esposizione, anche lì è curata insieme a Riccardo. Poi abbiamo proseguito a giugno a Lucca Museum insieme a Maurizio Vanni, di cui troviamo anche qui dentro un testo. Poi oggi siamo qui in un'altra realtà importante per Pinocchio, questo Dantocchio, questo museo che unisce due figure, una leggendaria, possiamo dire così, Pinocchio, una realmente vissuta come Dante, due personaggi, forse i personaggi toscani, fiorentini più conosciuti al mondo, ma forse anche i personaggi italiani più conosciuti al mondo. Questo vuol dire qualcosa, insomma, unire queste due realtà toscane in un unico museo e oggi che ospitano questa bellissima mostra. E poi troverà la sua conclusione, almeno di questo ciclo, questa mostra, il 21 marzo alla chiesa della Spina a Pisa. Quindi un'altra location importante, quattro location, una diversa completamente dall'altra, però che racchiudono questo mondo fantastico di Marcello. Marcello si è innamorato di Pinocchio da bambino. Tu volevo fare questa domanda, quindi l'hai preceduta. Tu hai curato tante mostre che avevano Pinocchio come protagonista, una che è esposta anche in una mostra collettiva dei maggiori maestri toscani, che è a San Minato Basso, esposta nella Casa della Cultura. Che interpretazione ha dato Marcello? Qual è il Pinocchio di Marcello? Come lo ha visto, come ce lo ha proposto a noi spettatori? In realtà ho curato molte più mostre di Pinocchio, anche collettive. Una, la prima forse collettiva, è proprio nella fondazione, ormai è proprietà della fondazione Collodi. Come l'ha interpretata? Come nel suo gesto, col suo stile. Pinocchio permette di essere interpretato bene da Marcello, perché con un segno, il segno di getto, istintivo, anche astratto per certi versi, Pinocchio si riconosce dal naso. Quindi basta fare due segni e è già Pinocchio. Quindi Marcello probabilmente nel suo mondo, nel suo modo di lavorare, in molti suoi segni ha anche involontariamente disegnato Pinocchio. Poi lo ha visto e era dentro di sé, perché come dice, mi ha raccontato, fin da bambino era innamorato di questo libro che gli è stato regalato dalla mamma, come tanti di noi, e era dentro di sé questo Pinocchio. In questo gesto poi piano piano è venuto fuori e diciamo che nella stilizzazione di questi dipinti dove Marcello, se le può mandare alla regia, dove Pinocchio, corri Pinocchio, lì c'è una poesia, c'è un semplice tratti, a gesto, non fatti nemmeno col pennello, fatti con uno strumento che magari Marcello vi dirà, uno strumento particolare. E quindi lì c'è Marcello Scarzelli, in quel segno, Marcello è il maestro del segno. Noi ricordiamo ai telespettatori che chi volesse rivedere servizi dedicati a Marcello Scarzelli e in particolare quello di Collodi, oppure l'inaugurazione del Pinocchio, il nel giorno che fu posizionata nella rotonda di San Mignato Basso, del 2016, potrà andare 92 anni esatti da quando fu tolto il nome Pinocchio a San Mignato Basso e gli fu restituito, gli fu dato appunto. Sul nostro canale YouTube, insieme a altri 3.000 servizi, potrà velocemente trovare cliccando Marcello Scarzelli oppure San Mignato Basso, Pinocchio, Collodi, facilmente emergeranno questi servizi che vi potranno aiutare a integrare quello che vi stiamo proponendo con l'odierno servizio. Non poteva non presenziare a questa importante inaugurazione il Presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Gianni per molteplici motivi, intanto motivi istituzionali perché da oggi si apre nel cuore di Firenze un ulteriore spazio espositivo riservato all'arte toscana contemporanea e poi perché il protagonista di questa mostra ritrae e raffigura nelle sue opere Pinocchio e il Presidente Gianni è originario proprio della frazione del Comune di San Mignato, San Mignato Basso, che fino agli anni venti si è chiamata il Pinocchio e quindi ogni qualvolta in questa località si ricorda Pinocchio con una manifestazione o con un'installazione come successe qualche anno fa per il Pinocchio e il cerchio di Marcello Scarzelli, la sua presenza è sempre stata affettuosa e costante. E poi oggi abbiamo scoperto che Marcello Scarzelli come te ha origini sanminiatesi, quindi c'erano moltissimi motivi oggi per cui non avresti potuto mancare a questo appuntamento. Innanzitutto Marcello Scarzelli è uno dei migliori artisti toscani contemporanei, persona che attraverso le sue mostre, attraverso le sue testimonianze artistiche è particolarmente conosciuto e opera non solo nella provincia di Pisa dove abita Bientina ma soprattutto in una dimensione che è quella regionale, nazionale. Proprio per questo appariva come la persona giusta per inaugurare questo spazio espositivo che all'interno del Museo Dante e Pinocchio trovano il loro elemento di incrocio nella fiorentinità nello spazio da qualche mese inaugurato in Via dei Servi, ha anche uno spazio che è dedicato alle mostre d'arte, agli artisti contemporanei della Toscana, uno spazio che è partito con una figura d'eccezione, Nano Campeggi e che trova ora la sua dimensione di spazio temporaneo per mostre proprio con Marcello Scarselli, che lega il suo nome però effettivamente anche per la scultura che tutti vedono a Samminiato Basso, già il Pinocchio, ma che poi lo porta nella sua espressione artistica a trovare molta sensibilità verso il celebre Burattino. Sappiamo che proprio il Burattino, Pinocchio, ha evocato gli artisti più importanti della Toscana e dell'Italia, non a caso Collodi, il borgo dove vi è, il Parco di Pinocchio, ha costruito per generazioni e generazioni il proprio parco attraverso figure evocative con sculture o policromie di spazi di artisti toscani di grande significato proprio per ciò che Pinocchio con la sua fiaba barra romanzo riesce a evocare. A Marcello Scarselli anche questo appunto è avvenuto e insieme a tante opere che appunto sono conosciute con la idea della figura di Pinocchio, qui c'è poi una vera e propria rassegna di quadri che ci riportano, è vero, proprio a Samminiato Basso per il toponimo Pinocchio. Nessuno può sapere, può dire come lo abbia accettato Carlo Lorenzini di mettere nome al suo Burattino attraverso questo nome così strano. Fatto sta che vi era questo borgo nel comune di Samminiato che si chiamava Pinocchio, il nome lo aveva acclarato fin dal XVIII secolo perché lì alle quattro strade, nella strada che fa un po' da crucivia del paese, vi era un'osteria detta Osteria del Pinocchio che già dall'inizio dell'Ottocento, proprio perché non era molto decorosa in un'osteria dare il nome a Pinocchio, fu cambiato come nome in Pinocchio. L'osteria del Pinocchio dà il nome a tutto il paese, in quel paese alla fine dell'Ottocento va molto spesso il padre di Carlo Lorenzini che era un cuoco e che lavorava il sabato e la domenica a una delle fattorie della zona e siccome Carlo Lorenzini, l'autore di Pinocchio, aveva scuola nel collegio di Colle Valdelsa dove dai 14 a 19 anni insieme al fratello Paolo frequentò i corsi, fine settimana nulla di più probabile che veniva portato in carrozza, i due ragazzi venivano portati in carrozza e andavano a trovare il padre con il quale passavano qualche giorno e questo borgo, detto il Pinocchio, nulla di più probabile che abbia evocato il nome al burattino. Del resto non era nuovo Carlo Lorenzini a usare il nome di un paese per dare nome a qualcosa di importante. Il suo stesso pseudonimo che usa perché da impiegato civile dello Stato non poteva più scrivere sulla nazione o scrivere i suoi libri quando era un dipendente pubblico per le normative che con l'Unità d'Italia vincolano a usare un nome che non fosse Carlo Lorenzini e quindi usa il nome del borgo nativo della mamma per firmarsi nei suoi libri e da quel momento si chiama Collodi, quindi nulla di più probabile che il nome del borgo della mamma lo usa per firmare se stesso. Del babbo perché andava al Pinocchio a trovare il babbo lo usasse per dar nome al suo burattino e oggi le statue di Scarcelli sono proprio a Sabiniato Basso già Pinocchio a evocare quella figura attraverso il suo talento che qui vediamo mostrato attraverso un'ampia rassegna di quadri. Come ci ha ricordato poco fa nel suo intervento Filippo Lotti lui è co curatore della mostra insieme a Riccardo Ferrucci che è un notissimo critico e storico dell'arte in particolare ovviamente essendo originario dello stesso territorio ha sempre seguito e conosce perfettamente il lavoro di Marcello Scarcelli e quindi anche la sua presenza oggi era fondamentale per la presentazione al pubblico e alla stampa di questa mostra. Sì credo che Scarcelli abbia trovato in Pinocchio un tema congeniale perché su Pinocchio molti artisti toscani italiani nel mondo hanno già realizzato delle opere anche di grande interesse però mi sembra che in Scarcelli ci sia una freschezza una originalità particolari quindi è un artista che passa da temi anche più seri e anche più difficili come il lavoro in fabbrica mi ricordo una sua grande mostra al museo Piaggio dedicata appunto anche al tema del lavoro però anche questi temi invece più giocosi più che guardano l'infanzia che guardano un'infanzia che però nasconde anche le paure e i problemi di un'epoca insomma di diventare adulti di crescere quindi Pinocchio non è non è solo un racconto per bambini un racconto per tutti mi sembra che Scarcelli l'abbia colto perfettamente con grande originalità tra l'altro poi dopo questa tappa fiorentina che è molto importante ci sarà una grande installazione collocata nella chiesa della spina a Pisa una chiesa del duecento che si apre quindi all'arte contemporanea attraverso l'opera di uno degli artisti più interessanti che abbiamo oggi in Toscana per non dire in Italia. Grazie grazie allora concludiamo ovviamente con il protagonista assoluto insieme a Pinocchio perché è l'altro protagonista di quest'oggi insieme a Marcello Scarcelli e questo straordinario burattino che ormai da decenni e decenni intriga artisti come diceva Riccardo provenienti non solo dall'Italia ma tutto il mondo e poco fa Riccardo ha detto una cosa un equivoco c'è sempre stato di considerare se il Pinocchio solo un racconto per bambini un libro per bambini e questo equivoco è emerso anche poche pochi mesi fa poche settimane fa col film di Garrone che è un capolavoro assoluto ma noi abbiamo sentito delle interviste all'uscita del cinema dei genitori con bambini delusi che hanno detto è un film dove non si ride bambini non hanno riso anzi sono anche usciti un po' spaventati ovviamente il peso della tradizione per chi affronta per un artista che affronta Pinocchio è gravosissimo bisogna togliersi di dosso le scorie del passato le illustrazioni anche di importantissimi e bravissimi illustratori si bisogna tornare indietro col tempo scremare scremarsi scremarsi la prima persona che mi ha fatto conoscere Pinocchio è mia madre era molto piccolo mi raccontava le storie attraverso le figure perché io non sapevo né leggere né scrivere era piccolo e con questa marionetta questa figuretta mi insegnava diverse cose cioè i valori della vita cioè quello che è l'onestà tutte queste cose qui non è stato semplice per me ritornando al lavoro che ho fatto ora di Pinocchio perché io vengo da una pittura io vorrei partire proprio dall'inizio della mostra non so se il nostro regista può inquadrare tu sei partito proprio da un Pinocchio stilizzato figurativo che corre e quindi è un po' un invito a inoltrarsi nel tuo mondo di Pinocchio questo è il mio segno e quindi lì mi ci trovo molto bene perché è la mia pittura ovviamente la figura l'hai abbandonata nelle altre opere della mostra appunto dicevo che ritornando dal dall'informale qui si tocca quasi il concettuale quindi non è stato semplice io uno studio abbastanza grande c'ho due cavalletti che lavoro in verticale poi uno grande orizzontalmente molto grande dove faccio anche opere piuttosto grandi sopra questo tavolo c'è un sacco di roba normalmente giornali ritagli forbicette lapis mi sono messo lì concentrandosi come te giustamente hai detto bisogna scremarsi bisogna ritornare bambina bisogna credere in qualcosa di molto serio e piano piano sono riuscito a costruire questa marionetta c'è il mio Pinocchio e da lì poi è uscito fuori tutto quello cioè le mostre che ho fatto che sto facendo fino all'ultima che sarà a Pisa lì alla chiesa della Spina allora intanto consigliamo ai telespedatori di segnare la data e l'appuntamento per la chiesa della Spina perché ovviamente ci sarà una doppia opportunità quella di vedere la mostra di Marcello ma anche di visitare questa straordinaria chiesa appoggiata sulla riva sinistra dell'Arno e per ora però vi invitiamo a venire al Dantocchio il museo dedicato a Dante e Pinocchio in via Ricasoli a Firenze la mostra si intitola Pinocchio Burattino senza fili è corredata da un catalogo in distribuzione ovviamente qua al Dantocchio curato da Riccardo Ferruccio e Filippo Lotti e per chi volesse vedere i precedenti servizi dedicati alle mostre di Marcello Scarcelli consigliamo nuovamente ad andare sul nostro canale YouTube Grazie 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 Grazie